vicino la simmental tappo penso tappo è un altro tappo si oggi si taglia anche l'erba è uscita un altro bel suono qua sempre vicino alla moneta che ho trovato io ecco 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 10 10 vicino 10 centesimi vicino alla 50 ottimo vediamo il nostro cercatore d'oro cosa ha trovato vediamo qua sembrava che è uscita invece si è eccola nuovissima 10 centesimi nuovo a 9 perfetto perfetto un altro bel suono in questo bello è solo con il pin point sandro sinceramente non tanto poi poi me che è uscito è probabile da qua sandro non mi sa che sta da qua sta sotto no 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 niente no 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 Grazie a tutti.